Buongiorno, buongiorno. Oggi come va? Bene, molto bene. Bene. In Porto cos'è che hai visto? Non ho idea perché dici che sono cefale, quindi mi fido di te, mi fido di te. Poi, ciao. Achille, papà. Ciao. Ciao. Si va. Oggi pesche importanti per pesci importanti, giusto? Giusto. Ora andiamo sullo spot e incrociamo le dita. Ciao. 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 E vai. E non lo perdi più. E vai. E vai. E vai. E vai. E vai. Io sono mezzo addormentato. Guarda. Guarda lì, cosa ti fai. Scusa, ti faccio così. Guardate un po' che cosa c'è qua. Qualcosa ha preso il nostro pescatore. Vieni anche te, Achille. Vieni qua. Vieni, vieni. Meraviglioso. È un gioco di squadra. Anche se l'hai comprato lui, è un gioco di squadra. Tutti insieme.